La dodicesima edizione è impegnativo, oltre che essere orgogliosa sono un po' preoccupata perché passare la soglia dei 300.000 è un traguardo ambizioso che speriamo vivamente di poter raggiungere, anzi siamo favorevolmente positivi. Spegne 12 candeline il mercato internazionale di Arezzo che da venerdì 14 a domenica 16 ottobre riporterà in città l'ormai amatissima carovana di operatori italiani e stranieri con il meglio dell'artigianato e della gastronomia dei loro paesi. Un appuntamento che tenta di superare le 300.000 presenze della precedente edizione con alcune novità, mettendo a confronto non solo l'artigianato e la gastronomia dei paesi esteri ma anche quelle che sono le eccellenze retine. Un circuito davvero molto esteso che copre tutto il centro storico, non solo l'Arena Eden ma anche tutte le piazze del nostro bellissimo centro storico, da piazza Sant'Agostino a piazza San Jacopo a piazza Risorgimento a tutte le vie e le strade limitrofe. Un'integrazione molto forte tra l'internazionalità dei banchi e soprattutto le attività locali. Oltre 70 attività locali presenti all'interno del circuito, la formula vincente del mercato internazionale è proprio questa cioè l'aver integrato i banchi internazionali alle attività locali al territorio. Tantissime sorprese, tantissime novità a partire dai cibi di strada in piazza Sant'Agostino con le caratteristiche Ape Tranc che saranno presenti all'interno del Prato Verde che allestiremo da venerdì 14 e poi giardino d'autunno in piazza Risorgimento, produttori locali in piazza San Jacopo, contest e l'evento del mercato internazionale che si amplia social network, il concorso Parti con Gusto, scatta la tua foto e vinci un weekend in una capitale europea. Davvero un grande evento per tutti i gusti e per tutte le tasche. Grazie